Vigevano ottiene la sua prima vittoria nella fase orologio, spezza una serie di tre sconfitte consecutive e guadagna due punti importantissimi per la classifica. Lo fa condannando chiusi, ora tenute in due soltanto dall'aritmetica. Una partita tirata, senza concessione allo spettacolo, un vero e proprio match salvezza insomma, dove comunque Vigevano è stata quasi sempre in vantaggio seppure nel finale abbia rischiato di capitolare. Una partita sporca, per una partita abbiamo giocato con desiderio di vincere e mettendo ognuno in campo tutto quello che aveva. Lai e la chema che poco prima della partita ha visto da Alessandro tornare in infermeria per un problema muscolare alla coscia sinistra, tutto da valutare, inizia con alcune brutte palle perse, a dimostrazione che i problemi mostrati nelle ultime settimane non sono ancora risolti. Una buona difesa e un attacco con qualità certamente migliori di quelle degli avversari è comunque sufficiente ai gialloblu per tenere sempre la testa avanti. I Ducali provano un allungo a più otto sul finire del primo tempo con le triple di Leardini e Weidman, ma a rientro dagli spogliatoi l'unica fiammata della partita di Stefanini, con uno 0-5 di parziale, riporta i Toscani in scia. Segue una fase di gioco davvero brutta da vedere dalla quale emerge Tilgman, quasi infallibile al tiro da qualunque distanza. L'americana, autore di 34 punti, pareggia il 31esimo sul 60-60. Peroni e Weidman riallungano, Battistini con il più 7 a 2-0-8 dalla fine sembra infilare canestro decisivo, ma anche in questa partita Vigevano gioca gli ultimi possessi offensivi con poca lucidità. Insolito Tilgman e due liberi di Gadeforce riportano chiusi sul meno 1 a 80 secondi dal termine. Gli dei del basket stavolta premiano Vigevano e soprattutto Weidman, che pesca da lontanissimo il canestro del più 4, consentendo ai Ducali di arrivare senza più patemi al 76-70 finale. Questa era una partita che dovevamo vincere, abbiamo vinto. Temevo fortemente l'effetto latina. Non è stata una bella partita, non è stata una bella prestazione. L'abbiamo pasticciato veramente in modo tremendo. La posta in paglio era molto alta, le rotazioni sugli esterni erano molto corte. Rivadisco il concetto. Questa era la partita che dovevamo vincere, l'abbiamo portata a casa e non che noi siamo stati così cinici in passato nel momento in cui si doveva vincere. Grazie a tutti.